Stamane a margine di un'iniziativa presso la cittadella regionale, il delegato del Presidente della Regione Mario Liverio in materia di politiche della salute, Franco Pacenza, ha risposto ad una nostra domanda in merito al percorso di integrazione delle aziende sanitarie Pugliese, Ciaccio e Materdomini dopo la riunione dello scorso 2 febbraio nell'ufficio del commissario ad acta per il piano di rientro del debito sanitario al termine della quale si era parlato di un'accelerazione verso la creazione di un'azienda unica ospedaliero universitaria. Non c'è dubbio che deve avviare avviata, io spero che arriviamo in porto nel giro di qualche mese. È sicuramente una vicenda molto complessa, ma bisogna anche avere contezza che l'integrazione con una grande azienda ospedaliera universitaria deve diventare, può diventare, diventerà il cuore del sistema sanitario calabrese. Quindi da questo punto di vista c'è bisogno di avere questa consapevolezza perché non si tratta di un fatto meramente organizzativo, ma si tratta di mettere in relazione la più grande struttura ospedaliera calabrese che è il pugliese, anche con la sua tradizione, con la sua forza in termini di servizi sanitari, con la struttura universitaria, con la facoltà di medicina e col policlinico universitario, facendo da questo relazione un punto strategico dell'intero sistema sanitario calabrese. Questa è la sfida, non è quello di pensare se questa o quella struttura può essere diretta dall'uno o dall'altro mondo. La sfida è come si produce una sinergia effettiva perché la missione, oltretutto noi come spesso accade, ahimè purtroppo ci arriviamo dopo troppo tempo, questa è una discussione aperta vent'anni fa, vent'anni fa. E il caso di chiudala perché altrimenti si paga un prezzo salatissimo, troppo alto, è un prezzo che non ci possiamo consentire.